Nuovi sbarchi in Puglia di migranti e la macchina della protezione civile si mobilita. Questa mattina circa 100 migranti salvati nelle ultime ore sono giunti al molo San Cataldo a bordo del pattugliatore della Guardia Cossiero Baldo Diciotti. Si tratta quanto si è preso per la maggior parte di uomini, a bordo anche 114 donne e 256 minori. Le operazioni di identificazione dureranno almeno 24 ore, in seguito ci sarà il trasferimento dei migranti verso altre destinazioni. Sbarchi anche nel capologo pugliese, la nave Peluso della Guardia Cossiero ha condotto 250 migranti provenienti da diversi paesi dell'Africa. Si tratta di 221 uomini, 26 donne di cui due incinte e tre bambini accompagnati. A quanto si apprende si tratta del primo di una serie di sbarchi programmati che proseguiranno nei prossimi dieci giorni e che porteranno nel porto di Bari per poi essere smistati in varie città italiane circa 850 migranti. All'attività di soccorso partecipano tutte le forze dell'ordine territoriali aiutati dei volontari di Croce Rossa, Caritas, Associazione Elpe e dei servizi sociali del Comune di Bari. Dal direttore della Caritas di Ocesana, Don Vito Piccinonna, arriva anche l'appello a raccogliere vestiti e scarpe, soprattutto da uomo, che potranno essere consegnati presso la sala riunioni dell'assessorato al welfare in piazza Chiurlia, oltre a biscotti, panolini, cartigenica, olio, pasta, scatolame e bicchieri. Sul posto è presente anche un presidio dell'ASL per controlli sanitari. Conclusa la fase delle identificazioni, i migranti saranno distribuiti nei centri di accoglienza di tutta Italia, secondo il piano definito dal Ministero degli Interni e la Prefettura.